Buonasera a tutti e a tutti, io inizierei visto che si è fatto un bel numero. Sono contento di dare il benvenuto stasera a Peter Cohen, uno dei più originali studiosi a livello internazionale sul tema delle droghe. Questa è un'iniziativa che nasce da Arci in collaborazione con il forum droghe e società della regione, che seguirà diverse tappe in molte città italiane e stasera fa tappa qui a Fusignano. Quindi do la parola a Leonardo che introdurrà la discussione di stasera e poi il dibattito mi auguro aperto a tutti e a tutte. Grazie. Grazie mille, grazie all'Arci, al circolo Arci e Brainstorm che ci ospita. Io sono Leonardo Fiorentini, direttore di fuoriluogo e segretario di forum droghe. E ho il grande piacere di accompagnare Peter Cohen in questo tour di quasi due settimane in giro per l'Italia. Con noi, appunto, oltre a Peter c'è anche Edo Polidori che è stato direttore della CERD di Forlì, con una lunga esperienza di approccio ai consumatori di sostanze e in particolare a quelli problematici. Ci ritorneremo dopo. Insieme a lui presentiamo questo volume che appunto dà il titolo anche al tour ed è dalla parte della ragione. che raccoglie gli iscritti di Peter Cohen durante la sua lunga collaborazione con Fuoriluogo, che era l'inserto mensile del manifesto su droghe e diritti, che oggi non esce più in quella forma ma è una rubrica settimanale che esce ogni mercoledì sul manifesto e un sito internet che è fuoriluogo.it. Peter Cohen, veniva ricordato prima, è uno dei più importanti, io credo, e originali studiosi nel campo delle droghe, è stato professore all'Università di Amsterdam e all'interno dell'Università di Amsterdam ha creato il CEDRO, che era il centro per la ricerca sulle droghe e nei suoi lunghi anni di lavoro e di studio ha prodotto tutta una serie di ricerche che hanno in qualche modo cercato di rovesciare il paradigma che vede chi consuma droghe come un disperato quando va bene, quando non va bene un criminale, elaborando e verificando sul campo quello che succede alle persone che in effetti consumano droghe, che non sono solo quelle che si rivolgono per problemi ai servizi per le dipendenze, ad esempio in Italia, ma che sono molti, molti di più. Io ormai ho passato i 50 anni, la mia formazione politica è stata anche sugli scritti di Peter Cohen e ritengo che questo volume abbia il grande pregio di essere quasi un manuale di politica sulle droghe. Se mai esistessero ancora le scuole della politica, per le lezioni sulle droghe dovrebbe essere adottato questo come manuale. Ed è per questo anche che ringraziamo l'Arci, perché ci permette di provare a riaprire una discussione, un dibattito, una riflessione su come debbano cambiare nel nostro paese le politiche sulle droghe nei confronti soprattutto di persone che, nate vent'anni dopo di me, non hanno vissuto quel processo, che è un processo che in Italia, ad esempio, ha permesso di passare dalla politica sulle droghe di Muccioliana Impronto, ovvero la comunità, le catene e il tossico da salvare, a un approccio che dal basso ha visto proprio il nostro paese fra i primi a cominciare ad usare politiche di riduzione del danno, come lo scambio delle siringhe, il metadone, prima ancora di queste, con il grande effetto, mai in qualche modo rivendicato, di far crollare le morti per droghe, che oggi sono la metà delle morti in montagna, ovvero muoiono per droghe 300 persone l'anno, in montagna per le passeggiate o per le scalate siamo a oltre 600, finiscono in ospedale per droghe, al pronto soccorso per droghe, 5.000 persone l'anno, circa quasi 6.000, sono 300.000 le persone che si rivolgono al pronto soccorso dopo una partita di calcetto o di qualche altro sport. Questo non per dire che non ci si debba preoccupare di ciò che un uso problematico, un sovradosaggio, un maladosaggio delle sostanze può provocare, ma che, ed è questa la grande importanza di questo testo, bisogna affrontare il tema con pragmaticità e partendo dal realtà vera delle cose, che è appunto quella che il consumo di sostanze è molto diffuso nei nostri paesi, nei paesi occidentali, che l'uso problematico è limitato a una piccola fascia di popolazione e che soprattutto la penalizzazione dal punto di vista amministrativo o del diritto penale del consumo e di tutto quello che riguarda lo spaccio e il narcotraffico di droghe di fatto non ha alcun effetto né sulla domanda di sostanze neanche sull'offerta. Basti pensare a quanto il mercato delle sostanze si è implementato e allargato se prendiamo come inizio le convenzioni sulle droghe dell'ONU, per cui il 1961 in poco più di 60 anni. Siccome ho promesso a Peter di essere breve, io termino qui dicendo solo due cose. La prima è che trovate il libro qui nel banchetto e dopo Peter sarà anche molto lieto di firmare le copie. L'altra è che fra poco girerà un foglio di raccolta firme, non vogliamo schedarvi, solo che questo tour è finanziato anche da un progetto di formazione continua dell'Arci, finanziato da Unione Europea, per cui c'è bisogno di avere un riscontro delle presenze. Concludo dicendo che il giorno dopo che la Germania ha approvato una legge che permetterà dal primo aprile di coltivare liberamente quattro piante o cinque, mi dimentico sempre, il numero di cannabis a casa e da fra pochi mesi di aprire i cannabis social club sembra sempre più urgente cominciare a ragionare di un nuovo approccio alle sostanze. Nel nostro paese un terzo dei detenuti in carcere per droghe, quasi la metà dei detenuti ha problemi di droghe, è definito tossicodipendente dai dati del Ministero, è evidente che serva un nuovo approccio che sia efficace, soprattutto permetta di investire, ed è questo un altro dei temi affrontati in questo libro, investire sulle capacità di chi usa le droghe, di autoregolarsi e di controllare la sostanza come del resto la popolazione italiana e mediterranea ha ben dimostrato di saper fare con l'algo. Mi fermo qui, lascio la parola a Edo Polidori che oltre ad aver letto il libro ha un lungo corso anche di dialoghi con Peter, per cui sarà un piacere ascoltarli. Grazie Leo, buonasera, sì, io ho lavorato fino a due anni fa nelle dipendenze patologiche a Forlì, fino al 2007 ero il direttore di Faenza, quindi ero nel territorio Ravennate, quindi un po' il territorio Ravennate lo conosco. ma siamo qui per parlare del tema, il tema è come affrontiamo il mondo delle sostanze. Piccolo inciso che è stimolato da questa parte di Leo, tra un po' ci saranno le elezioni europee, sono curioso di vedere quanti partiti nel loro programma per le europee diranno qualcosa sul tema droghe, nel senso che siamo ormai in una realtà in cui un atteggiamento, una posizione chiara sulla cannabis l'hanno assunta la Spagna, il Portogallo, la Germania, l'Olanda, il Lussemburgo, la Repubblica Ceca. Anche gli altri hanno assunto una posizione chiara. Però questi sei paesi hanno detto che bisogna cambiare le politiche. Sono numeri importanti in Europa come popolazione, quindi una fetta importante della popolazione europea dice che cambiamo le politiche. Ci sono le elezioni europee, vediamo quanti partiti diranno qualcosa su questo tema. Questa è la mia curiosità. Tornando al libro, invece di Peter, devo dire che mi ha colpito una cosa iniziale, ma siccome lo conoscevo, sapevo già il punto. Il punto è che lui dice che la dipendenza è una cosa di cui tutti abbiamo bisogno. Noi viviamo in una società che crea il mito dell'individuo indipendente, ma in realtà tutti abbiamo delle dipendenze. tutti dipendiamo da qualcosa, dagli affetti. Lui parla ad un certo punto della sua dipendenza dal suo cane. Quando gli è mancato lui è stato male e ha dovuto trovare un sostitutivo di questa dipendenza. Tutti dipendiamo da qualcosa e stiamo male quando questa dipendenza si interrompe, viene meno. Lui dice che la dipendenza è un legame forte alla fine, è un bonding. Solo che se lo accostiamo agli affetti è una cosa normale. Se la dipendenza diventa da una sostanza è una cosa cattiva, è una cosa sbagliata, è una cosa immorale. E allora, forse dietro a questo c'è una costruzione, una costruzione sociale che definisce quello che è bene e quello che è male. Ma forse quello toglie spazio ad ogni individuo per dire per se stesso che cosa è bene per lui e che cosa è male per lui. Perché a volte noi consideriamo male una cosa che invece per un individuo è vantaggiosa, è utile, mi consente di andare avanti, mi consente di fare la mia vita, mi consente di fare le mie scelte. È lo Stato che deve definire che cosa è bene e che cosa è male o è un individuo che deve definire che cosa è bene e che cosa è male per lui? Questo è un tema, questo è un punto interrogativo. Questo va di pari passo con la declinazione di queste tematiche attraverso una parola al singolare, la droga. Voi sentirete sempre i politici parlare di droga al singolare. L'ultimo penso sia stato nell'ordine di tempo Salvini, due giorni fa mi pare. La droga è merda e chi si droga è un coglione. Queste sono state le frasi usate dal vice premier. Droga al singolare, perché è comodo usare questa parola al singolare, nel senso che per droga al singolare si intende un mondo strano, un mondo che nella testa di chi la usa va dalla cannabis in là. Dimenticando che io ho bevuto del prosecco che per l'Organizzazione Mondiale della Sanità risponde benissimo al concetto di droga, tanta gente fuma e questo risponde. Ma non sono banalità, sì dai anche il tabacco e l'alcol sono droga ma così per dire, dai capiamoci. Non è capiamoci, è che lo sono. Tutte le sostanze che modificano il funzionamento del mio cervello e il mio comportamento sono droga, tutte. Ma questo diventa difficile riconoscerlo per politici che hanno bisogno della guerra alla droga, perché la droga è quell'altra roba, è la cannabis, è l'eroina, è la cocaina, è l'LSD, sono tutte le nuove sostanze, quella è la droga. Il resto no. E capite che è uno slogan, uno, comodo, due, non scientifico, non scientifico, perché non è così che funziona il mondo delle sostanze di cui stiamo parlando. E questo però impedisce ogni ragionamento, perché le altre sono droghe, non facciamo differenziazioni, non facciamo differenziazioni e non facciamo distinguo, perché se usassimo la parola al plurale vorrebbe dire che questa fa alcune cose e non ne fa altre, questa può essere pericolosa se usata in questo modo, lo è meno se usata in quest'altro, vuol dire fare delle distinzioni, aprire delle parentesi, dei problemi, degli usi che possono essere problematici o che possono essere non problematici. se faccio un unico mucchio e lo definisco droga, allora quello è un nemico più facile, funziona lo slogan, abbiamo una politica che funziona per slogan e che non sa articolare i discorsi. Non a caso, io non so in quanti paesi ci sia, noi abbiamo un dipartimento di politiche sulle droghe, l'organizzazione governativa si chiama dipartimento politiche anti-droga, non sulla droga, anti-droga, perché è chiaro che la droga è il nemico, ma usando sempre la parola singolare parlo di quella roba là, cioè non parlo di tabacco, non parlo di caffè, non parlo di alcol, no no, dalla cannabis in su. E la droga è il male e questo dal mio punto di vista c'entra con con il senso che ognuno di noi dà alla parola libertà. Perché c'è un mondo che considera la libertà ah, i drogati vogliono avere la libertà di drogarsi, di fare quel cazzo che gli pare, di mettere a rischio e questa è l'idea che abbiamo di libertà, oppure libertà vuol dire assumersi la responsabilità delle proprie azioni, la responsabilità delle conseguenze delle proprie azioni, ma anche la libertà di decidere come io pongo me stesso nella condizione di stare bene. può uno Stato dirmi questo? Perché io per stare bene posso in casa mia bermi tranquillamente un bicchiere di qualcosa, con i miei amici posso bere tranquillamente un bicchiere di qualcosa ma per stare bene non posso farmi una canna per esempio. Perché? Di nuovo qual è la funzione delle leggi? Le leggi devono regolamentare i rapporti tra di noi in modo che nessuno possa fare del male a un altro possa nuocere al benessere di un altro o le leggi devono entrare nella sfera della mia etica? È lo Stato che mi deve definire l'etica? Ma mi pare che tutti noi siamo contro gli Stati etici. Gli Stati etici sono quelli che dicono che ti devi mettere il velo che non puoi uscire vestito in quel modo questo è lo Stato etico. Lo Stato deve avere questa dimensione etica o deve semplicemente dire come i cittadini devono rapportarsi tra di loro? È un bel quesito è un bel problema. È un problema che ci porta a dire anche ma esattamente questo Stato etico che cosa mi vieta oggi? Per esempio è vietato posso dire che in Italia oggi è vietato l'uso di droga? Guardate no non lo posso dire perché per l'Organizzazione Mondiale della Senarità droga sono anche tabacco caffè ed alcol quindi in Italia non è vietato l'uso di droga posso dire che è vietato l'uso di alcune droghe? Neanche perché per esempio gli oppiacei sono utilizzati nella terapia del dolore la cannabis può essere utilizzata nella terapia del dolore cos'è assolutamente vietato? È vietato l'uso ricreativo di sostanze di alcune sostanze io non posso divertirmi non posso rilassarmi se non usando tabacco alcol e caffè ma è questo che è vietato è vietato l'uso ricreativo di alcune sostanze e questa è una cosa che qualche domanda la deve la deve far nascere io amo molto John Stuart Mill un maestro del pensiero lui ha detto che sul proprio corpo ognuno è sovrano sono io che decido cosa è bene per me e che cosa non è bene sarebbe come se lo Stato dicesse è vietato masturbarsi se hanno fatto i miei cioè perché deve entrare in questa dimensione tra l'altro facendo passare l'idea che il rapporto con le sostanze debba inevitabilmente sfociare nella dipendenza non ci può essere una persona che usa cannabis ah no guarda uno diventerà dipendente dalla cannabis due passerà dalla cannabis ad altre sostanze poi arriverà l'eroina poi la cocaina poi tutte le ricerche scientifiche serie smentiscono la teoria della porta d'ingresso e smentiscono il fatto che la dipendenza sia il modello prevalente di consumo rispetto alle sostanze un sacco di persone usano sto sulla cannabis un sacco di persone usano cannabis pochissime pochissime hanno dei problemi rispetto a questo un sacco di persone possono usare l'eroina alcuni avranno problemi con l'eroina un sacco di persone usano la cocaina alcuni avranno problemi con la cocaina un sacco di persone bevono alcol alcuni diventano alcolizzati alcuni quasi sempre le motivazioni sono complesse e centrano con tantissimi fattori individuali sociali relazionali ma la dipendenza rispetto alle sostanze non è il modello di consumo più diffuso il modello di consumo più diffuso è l'uso cioè se mi va lo faccio se non mi va non lo faccio fine in alcuni contesti posso farlo in altri contesti posso non farlo questo è questo sembra impossibile dirlo guardate che è una battaglia politica molto difficile perché c'è un mondo di destra che vive di slogan la droga uccide e c'è un mondo di sinistra che balbetta delle cose sulle droghe non ha il coraggio di prendere posizioni chiare non ha il coraggio di dire parole diverse e spesso quando trova il coraggio di dire qualcosa dice parole non molto diverse da quelle che potrebbe dire Salvini anche in questa regione inoltre la dipendenza è sempre vista con l'ottica della perdita del controllo se sei dipendente non controllerai più la tua vita una delle cose che per esempio ci ha insegnato il covid è stato che molto spesso le persone invece anche rispetto la dipendenza sanno darsi una regolata cioè sanno controllarsi sanno vivere e gestire un rapporto con le sostanze in maniera diversa queste sono le cose da abbattere l'idea che l'uso di sostanze voglia dire dipendenza non è vero il rapporto più diffuso con le sostanze è l'uso e l'idea che la dipendenza sia sempre legata a una perdita del controllo non è vero spesso c'è un controllo nel vivere la dipendenza nel gestire la dipendenza e questo pone a me una domanda rispetto ma in che servizio ho lavorato io per 40 anni della mia vita perché guardate quello che tutti conoscono come cert in realtà si chiamano servizi per le dipendenze patologiche e il quesito mio è sull'ultima parola quando è che una dipendenza è patologica quando una persona sta male o quando consuma una sostanza perché guardate molto spesso l'idea del patologico io lo collego alla sostanza che usa siccome usa eroina questa è una dipendenza patologica quando invece forse dovrei collegare il patologico al fatto che lui mi dica io sto male in queste condizioni io vorrei cambiare io voglio modificare il mio rapporto non è sempre così e molto spesso non è così è il tipo di sostanza che definisce a priori se è patologico o meno finisco finisco con una citazione del libro di Peter che gli ho detto anche prima che è la cosa che mi è piaciuta sono le due righe che mi sono piaciute di più nel suo libro Peter ha detto che viviamo alla fine in uno stato che costruisce il male definisce questo è male e poi dice però per fortuna che ci sono io stato chi ti aiuto contro il male che io stesso ho costruito è una partita difficile è una partita che ha bisogno dal mio punto di vista di cultura è una partita che ha bisogno di ricerche come quelle di Peter è una partita che ha bisogno del contributo di tutti noi che se siamo qui è perché ci poniamo delle domande è bisogno del contributo di tutti noi per smuovere le coscienze di quelle persone che sono vicine a noi ma ma sono ancora incerta non hanno ancora dal mio punto di vista non hanno affrontato seriamente questi temi che sono temi che hanno attraversato la storia dell'uomo e sono temi con cui l'uomo ha sempre dovuto trovare il modo di convivere noi diciamo delle cose Peter dirà sicuramente delle cose molto più intelligenti di quelli che posso dire io però io veramente mi appello a voi perché con le persone che conoscete cominciate continuate a dibattere queste cose perché veramente si è bisogno di smuovere intelligenze di smuovere pensieri e di questo ne ha bisogno Fusignano ma ne ha bisogno la nostra regione ne ha bisogno il nostro paese grazie 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 io sono entrata in questa ricerca all'uso di droga perché troppo volume perché mi ho chiesto la gente in la nostra cultura che è una cultura più vicina così che sono cresciuto in una cultura di uso di alcol e questo crescere è anche un'educazione la gente da piccolo sanno a causa del loro contesto quanto usare l'alcol quali momenti quali momenti no con chi qual quantità quale qualità però per droghe che sono strano a una cultura non c'è questo processo culturale integrata per assumere le regole di usare una sostanza siamo cominciato di attempt come si dice attempt tentativi di capire questo allora abbiamo fatto delle campioni della popolazione generale per intervistare tutti questi gente come hanno imparato di usare la canapa grazie a Peter ne approfitto io per dire qualcosa anzi magari se invece qualcuno vuole fare domande sono benvenute il libro appunto come dicevo raccoglie tutta una serie di da un lato ricerche scientifiche in particolare quella che stava citando adesso Peter Cohen rispetto allo studio molto largo 30.000 40.000 soggetti sull'uso di cannabis in Olanda noi in Italia ma direi in tutto il mondo abbiamo le statistiche su tra l'altro non particolarmente affinate su quanti consumano le sostanze ma difficilmente la ricerca va a chiedere perché le si usa come le si usa insomma che rapporto in effetti c'è con quella sostanza e la grande grande pregio di questa ricerca delle altre fatte da Peter Cohen è invece il fatto di poter capire comprendere come la sostanza viene usata dalla persona durante la propria traiettoria di vita per cui ha un uso anche sregolato di cannabis negli anni giovanili pian piano con l'aumentare delle responsabilità magari il lavoro la creazione di una famiglia l'uso tende tendenzialmente a scemare se non a completamente cessare in netta contrapposizione con invece la vulgata proibizionista della curva infinita di appunto di utilizzo della sostanza che comincia e non può più finire se non con l'intervento di un qualche salvatore c'è questa c'è la parte di ricerca ma il grande pregio di questa raccolta è che questa ricerca viene messa a disposizione della costruzione di un nuovo paradigma per affrontare la politica sulle droghe cioè dalla proibizione che peraltro come dicevo prima è inutile e poi se vogliamo possiamo anche approfondire questo a invece trovare modalità per sostenere l'uso controllato per limitare gli usi che non fanno bene che passano dal voglio rilassarmi al mi crea danni in un in un quadro di regolamentazione legale che è poi quello che sta succedendo un po' in tutto il mondo quantomeno sulla cannabis a partire dall'Uruguay fino ai 25 stati negli Stati Uniti al Canada oggi la Germania anzi ieri la Germania con un approccio un po' meno un po' meno strong rispetto a quello americano in genere ma comunque importante come è stata la piccola Malta prima in Lussemburgo nel libro di Peter c'è anche visto che prima Leo aveva chiuso sulla cannabis nel libro di Peter c'è un altro passaggio sulla cannabis che è carino secondo me è bello che se uno prende la cannabis come sostanza e guarda i motivi della proibizione troviamo di tutto e di più nel senso che negli anni 1930 la cannabis doveva essere vietata perché scatenava la violenza negli anni 60 la cannabis doveva essere vietata perché produceva quello che lui chiama il drop out sociale quindi stimolava praticamente i giovani a rifiutare il modello di società consumistica americana e questo non andava bene poi erano gli anni della guerra del Vietnam quindi rifiutare il modello culturale americano era un venir meno ai doveri verso la patria verso lo stato verso la famiglia quindi dagli anni 30 agli anni 60 le motivazioni della proibizione sono cambiate completamente ma non è importante questo l'importante è che rimanesse proibita quindi la parola d'ordine non era cercare il perché doveva essere proibita ma mantenere la proibizione cambiando le motivazioni e quindi lui in questo contesto parla di quasi un dogma il dogma della chiesa della proibizione cioè le motivazioni non 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 si devono non si devono ricercare un dogma è una verità assoluta incontestabile e questo è quello che noi abbiamo ereditato se noi cominciamo a chiedere ma perché questo fa crollare il dogma i dogmi oggi si basano su due in Italia almeno su due punti il dogma sulla cannabis uno che è una droga di passaggio questo qui che abbiamo visto smentito da ormai migliaia di ricerche non è vero non funziona così due è che attraverso il dogma io in realtà ti trasmetto l'idea che usare cannabis non è giusto se lo Stato lo vieta ci sarà un motivo e se lo vieta è perché non è giusto ma nessuno si chiede ma funziona cioè se in presenza del dogma non la devi usare quello che noi vediamo è che di anno in anno secondo i dati dei vari studi io penso io seguo soprattutto quelli che riguardano la popolazione studentesca quindi 19 anni di anno in anno gli studi sull'uso di cannabis da parte dei giovani in età 15-19 danno dei numeri in aumento se io vado in una quinta superiore secondo ESPAD Italia almeno il 40% delle persone che ho di fronte ha usato cannabis 40% vuol dire che siamo vicini alla metà il prossimo studio mi dirà il 42 ma ogni anno aumentano i numeri quindi siamo in una situazione in cui c'è il dogma assoluto non lo devi fare è vietato ma sempre più gente la usa e la usa senza problemi particolari ma questo qui sembra che non si possa neanche dire dichiarare ma lo dicono i numeri lo dicono i numeri della stessa istituzione che ha stabilito il dogma e uno dice ma se non funziona se la gente non lo funziona perché andiamo avanti così e questo è uno dei grandi misteri allora io provo di continuare la mia storia dell'educazione di la costruzione di regole in un piccolo gruppo culturale abbiamo provato di capire come è questa educazione normale in una cultura di alcol come è replicata in un piccolo sottocultura dove la gente si si danno le informazioni che non sono date dalla cultura generale e abbiamo trovato che questa educazione culturale è quasi lo stesso in piccolo gruppi di consumatori che neutralizzano in questo modo la mancanza di educazione universale generale lo abbiamo studiato per consumatori di canapa però anche di anfetamina una droga molto meno popolare in Olanda che canapa e per cocaina e questi sistemi di educazione come usare quanto usare con chi sono in tutti questi casi sono quasi lo stesso e uno dei risultati di questa educazione è un uso adatto alla situazione la situazione può essere un gruppo di amici tranquillo in una casa però può anche essere una festa quando la funzionalità di una droga è diversa l'uso controllato di sostanza per dare un momento a Peter di riprendere il discorso io continuo a presentare il libro sono anche secondo me molto molto importanti titoli uno riprendendo quello che diceva Edo Polidori poco fa è particolarmente significante ed è quello dello saggio che Peter ha scritto in occasione di un convegno che Forundrogue organizzò a Udine a sostegno della difesa degli organizzatori del Rototomous Splash Festival che è il più grande festival regge in Europa che si teneva da molti anni in provincia di Udine a Osoppo e che a un certo punto venne gli organizzatori vennero accusati di agevolazione all'uso di sostanze superfacenti individuando proprio l'area del festival come luogo in cui si faceva uso di sostanze in un festival regge e del resto è difficile che ciò non avvenga ma la cosa diciamo positiva è che quel processo finì con una soluzione degli organizzatori e a distanza di anni gli unici condannati per per quella vicenda furono in particolare un carabiniere della caserma di Tolmezzo che pare fosse abituato a sequestrare le sostanze e poi rivenderle diciamo al dettaglio fratto questo fratto un graduato della caserma di Tolmezzo fu uno dei principali promotori dei sequestri a Rototom detto questo e arrivo al titolo che lo sto cercando non vorrei citarlo erronamente il titolo è la politica delle droghe come fuga dalla razionalità Edo ha citato prima come Peter definisca tutto l'apparato delle convenzioni internazionali sulle droghe come la chiesa della proibizione che appunto impone dei dogmi dei testi sacri che sono le tre convenzioni qui Peter si spinge ancora di più perché oltre diciamo la parte diciamo religiosa introduce anche il voodoo ovvero la politica delle droghe appunto come una completa fuga da quella che la razionalità ci direbbe le sostanze esistono le abbiamo sempre controllate non colpiamole e cerchiamo di gestirle a quelle invece di una cieca cieca proibizione è una fuga della razionalità la politica della droga come la politica delle streghe era non era razionale era simbolico il male combattere il male però continuo con la mia storia su l'educazione di uso di droga in questi gruppi la gente che assumono una droga che è culturalmente non normale in questi gruppi la gente anche imperano imparano imparano la funzionalità di una droga per esempio la funzionalità di alcol di far convivere un po' più semplice la funzionalità di canapa può essere molto diversa in questi gruppi di educazione in cui i giovani consumatori di canapa crescono imparano anche i vari funzionalità che può essere insieme però anche in riflessione anche in queste esplosioni di laughter come si dice laughter ridere queste esplosioni di riso no? di ridere o di riso? di risata di risata e una funzione di questo di questa educazione è di sapere quando un dosaggio di una droga non è funzionale per le funzioni che sono desiderate allora non ci sono solo over dosaggio di una droga esistono anche mal dosaggio una droga deve essere assunto in un modo specifico un po' meno troppo meno non va bene però più che funzionale non va neanche bene non è difficile capire come queste regole sono cresciute come sviluppano in piccoli gruppi di amici che sono conoscitori o conoscitori e il risultato è che la gente prendono queste droghe in un modo di funzionalità non è difficile di sapere quando un po' troppo amfetamina non dà piacere per niente dà un sentimento come lo scrivono i consumatori di angoscia di di super energetica di non sapere che cosa fare allora la funzionalità di un mal dosaggio di amfetamina è grande e la gente imparano per se stesso quale dosaggio è il buon dosaggio per un situazione specifico grazie a giufa parla del controllo essere in grado di controllare una droga però queste non sono regole difficili la funzionalità di una droga dà anche di una droga di una droga di una droga sapere i limiti e anche vivere con questi limiti come una cosa naturale è il processo normale di uso di droga noi lo sappiamo da alcol perché troppo alcol in una situazione di festa ti fa un po' ridicolo e allora lentamente e ci sono anche situazioni in cui un extra larga dosa di alcol può essere funzionale ci sono questi festi di studenti in cui è possibile di assumere un po' più alcol che in un bar normale questi limiti che sono il risultato di un'educazione normale non so esattamente che cosa vuole dire normale perché facciamo che abbiamo una definizione della normalità lo Stato con una politica di droga minaccia questo processo di educazione la gente devono devono nascondersi non è possibile di parlare come usare una politica severamente anti di droga è stupido perché previene la costruzione di normalità di regole di non overdose di non maladoso e sarebbe molto più razionale di sviluppare una situazione in cui la gente possa normalmente essere educata di usare droga perché tutti i droghi hanno la possibilità di overdose e overdose è una situazione pericolosa allora evitare evitare si può dire una overdose è importantissimo anche quando uno potrebbe comprare una dose di 10 mg di cocaina o 5 mg di ecstasy sarebbe possibile di fare un dosaggio adatto alla situazione alla persona da noi in Europa in America è proibito però in Europa è sempre scritto sul label si dice label etichetta quanto alcol si trova in una bottiglia normalmente noi non abbiamo più bisogno di questa informazione perché conosciamo questi liquidi però su altre droghe che non sono molto normalizzate nella nostra cultura sarebbe benissimo di conoscere il dosaggio esatto e la purezza esatto che uno prende con canapa adesso in Olanda ci sono sperimentando con labels quanto CBD c'è dentro quanto THC c'è dentro questo ha durato quasi 50 anni di una politica di droga un po' più razionale per introdurre anche questi sviluppi di razionalità io sono sicuro che in dieci anni si può comprare in Olanda dosaggi di ex milligrammi con ex percentuale di THC e tutta la varietà delle sorti di canapa sono esattamente conosciuto e scritto su questo label etichetta secondo me è necessario che la gente sono difesa no protetto dello stato è un proteggo protetto dello stato un stato che fa una lotta alla droga o una guerra alla droga non protegge fa aumentare i rischi fa aumentare i mal dosaggi fa aumentare i overdose non è razionale però non è anche molto gentile non è molto umanistica in tutti aspetti una politica di droga come guerra non è molto furbo però io spero che questo clima antidroga che è non gentile per la gente cambia per esempio io sono cresciuto in un periodo in cui una madre non sposata era una scandalo terribile anche un fatto molto crudele per le donne e adesso non per ricerca scientifico però per un cambio culturale questa situazione si è migliorato non esiste più in Olanda quando una donna ha una bimba nessuna ha un interesse in sapere se è sposato o no allora questi questi politici che sono molto dannose per una categoria di gente possono cambiare anche con la omosessualità era criminale in Olanda negli anni 50 e 60 in cui sono cresciuto adesso non è più dentro le leggi codici penali è sviluppato in una delle moltitudini della normalità bene grazie mille a Peter Cohen noi saremo per chiudere ringraziamo i dopolidori Peter Cohen e soprattutto il pubblico che ci ha assistito ringraziamo il circolo Archie Brainstorm per l'ospitalità se volete acquistare il libro è qui a disposizione su fuoriluogo.it poi trovate tutte le notizie e gli approfondimenti sulla riforma delle politiche sulle droghe in Italia grazie mille 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 grazie mille